Una vasta operazione ad alto impatto è in corso in località Arancieto, nel territorio del comune di Catanzaro, condotta da 150 tra poliziotti, carabinieri e finanzieri. Sono in corso di esecuzione, controlli, perquisizioni, posti di blocco e verifiche agli esercizi commerciali, alla ricerca di armi, droga e proventi di attività illecite. L'operazione, condotta attraverso un dispositivo di prevenzione reso efficace e visibile, è scritto in una nota anche grazie all'impiego di reparti speciali e di rinforzo inviati dal Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, per rafforzare i servizi di controllo del territorio e di contrasto al crimine nel Catanzarese e con l'obiettivo di ripristinare condizioni di legalità e sicurezza nelle zone più colpite da fenomeni di degrado.